ebbene carissimi amici ben ritrovati come sempre sul mio canale youtube quest'oggi parliamo di vincite dai miei software sono ben tre software che hanno vinto nell'estrazione di martedì 6 ottobre 2020 e precisamente vi faccio vedere la vincita del software super spia 10 veramente un software molto valido che vi consiglio perché vince da anni è un software che ogni volta che esce la spia 10 su qualsiasi ruota vi presenta una condizione di un estratto su due ruote 4 ambisecchie due abbinamenti a rotazione per interno 46 80 cagliari quarto colpo dopo aver vinto 46 a firenze anche in quarta posizione centra lambosecco al quarto colpo sulla ruota di cagliari poi andiamo a mister numeretto altro bellissimo software che vi consiglio ogni volta che esce un numeretto sulla ruota di bari il software arriva a consigliare una previsione composto da un estratto 4 ambisecchie due abbinamenti a rotazione per il termo 46 86 cagliari settimo colpo e infine l'intramontabile software spia maestosa ambata secca 19 vinta al secondo colpo genova roma e poi quinto colpo 19 25 a roma estrazione del 6 ottobre ogni volta che esce il 90 su qualsiasi ruota il software vi consiglia questa previsione un estratto 4 ambisecchie due abbinamenti per il termo i tempi di gioco sono massimo 13 colpi ma come vedete si ottengono anche vincite multiple nell'arco dei 13 colpi questi sono tre software che vi consiglio caldamente sono tutti e tre una bomba e vincono costantemente ma attenzione a quello che vi dico sempre il pacchetto completo dei miei 18 software disponibile al momento per valutare le convergenze tra i software ed andare a mirare in maniera mirata a previsioni come queste mister numeretto portava 46 vari cagliari super spia 10 portava 46 cagliari firenze cosa notate che in entrambe le previsioni c'era cagliari e c'era il 46 quindi il 46 convergeva con cagliari che era presente in due previsioni così si valutano le convergenze voleva dire che il 46 sarebbe caduto su cagliari e infatti lo abbiamo preso nella proprio nella stessa estrazione entrambi i software hanno vinto qui con i 46 80 e qui con i 46 80 si quindi immaginate che abbiamo valutato diciamo avremmo valutato questa convergenza ci portavamo a casa due ambi cioè miravamo soltanto a questa condizione quindi l'importanza di avere in mano tutti i software non per giocarli tutti perché alcuni mi dicono ma come faccio a giocare 18 software no è chiaro che noi non possiamo mai giocare tutte le previsioni tutti i software ma noi li confrontiamo man mano che li apriamo tutti andiamo a confrontare le condizioni e troviamo previsioni come questa dove notiamo questa bella convergenza e andiamo a mirare proprio a questa condizione infatti abbiamo preso due ambi quindi cari amici contattatemi all'indirizzo email che vi metto in descrizione come sempre intanto per chi vorrà acquisire uno di questi software vi metto il link per scaricarveli e contattatemi per sapere poi tutte le modalità di come avere il codice di attivazione perché i software sono ovviamente bloccati e necessitano di un codice di attivazione per essere sbloccati questi sono software che sono validi a vita qui non parliamo di un software che vi funziona due mesi tre mesi un anno qui parliamo di software come spia mestosa io non l'ho presentato ieri o l'anno scorso questo è un software che vince mi sa da un 4 o 5 anni e continua a dare questi risultati quindi attenzione cari amici contattatemi per questi software e soprattutto per la promozione perché valuteremo ancora convergenze come questa che ci ha fatto vincere questo bellissimo 46 a calorie con questi due ambi mister numeretto e super spia 10 quindi vi attendo in privato al mio indirizzo email in descrizione per avere tutte le informazioni in merito e vedrete ancora quante vincite io vi porterò sul mio canale dai miei programmi per adesso un saluto a tutti i mister sbancolotti